È tempo di invertire la rotta e di rispondere alla sfida dei nostri giorni. Vivere bene nel limite naturale delle risorse del pianeta, ripartendo dai territori in un'ottica di sistema. Noi l'abbiamo fatto! Crediamo in un modello di bioeconomia, intesa come rigenerazione territoriale, che oggi ci offre una grande opportunità, ripensare in ottica circolare l'uso delle materie prime rinnovabili, adottando un approccio a cascata e promuovendo colture rispettose delle specificità locali e coltivate in aree marginali. Applicando questo modello e puntando su un'innovazione continua, abbiamo riconvertito siti industriali non più competitivi in bioraffinerie integrate nel territorio, con l'obiettivo di generare lavoro, nuovi prodotti ad alto valore aggiunto e nuove filiere agroindustriali, riutilizzando competenze e strutture già esistenti e coinvolgendo attivamente gli agricoltori, le loro associazioni e tutti gli attori locali. Il nostro rivoluzionario prodotto è il Mater B, bioplastica biodegradabile e compostabile, nata per trovare soluzioni sostenibili a specifici problemi ambientali e certificata da organismi internazionali accreditati. Siamo partiti come centro di ricerca nel 1989 e in oltre 25 anni di attività abbiamo sviluppato mille brevetti, quattro tecnologie prime al mondo e impianti all'avanguardia che ci hanno permesso di creare generazioni sempre nuove del Mater B e di portare sul mercato bioprodotti sempre più innovativi. Questi risultati sono il frutto dei costanti investimenti in ricerca, innovazione e formazione in tutti i nostri siti, in Italia e nel mondo, che oggi fanno di noi un grande gruppo industriale. Tutto questo è Novamont.